Studio ipotesi, varo del ponte senza installazione del cantiere in alveo Simulazione, operazioni di scarico, montaggio e varo del ponte con modellazione BIM Studio ipotesi, 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 varo del ponte con modellazione BIM L'intero cantiere Studio ipotesi, varo del ponte con modellazione BIM 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.